Ma insomma che mattinata straordinaria, buongiorno Maurizio Ferrini, o la saluto come signorina Coriandoli Ma diamosi del tu, grazie Maurizio Ferrini, prima cosa sei identico, è un po' che adesso che abbiamo cominciato a... Sì, ti mantieni bene Sono fortunato Esatto, poi come signorina Coriandoli bisogna stare attenti anche alla pelle, a queste cose qua Maurizio Ferrini, ma anche tu scopro che insomma un contatto con qualcosa di più profondo nella tua vita l'hai avuto? Sì, sì, sì Che in parte ha condizionato anche le tue scelte No, beh, è una cosa da poco, una cosa enorme Allora, io questa cosa qui la dico a pochi E infatti è stata una sorpresa anche per noi, posso dire? Sì, l'ho detta a Baglioni qualche anno fa, a casa sua, a Lampedusa, perché mi ha invitato a Oshà, il penultimo anno che l'ha fatto Mi è uscito così, perché lo dico ogni tanto, ma insomma non è che lo dico un grande Perché poi non so mai chi ho davanti, perché poi si è fraintesi Ma c'è mica paura che ti giudichi, no? No, questo no, di non essere capito Cioè, se uno manda un messaggio, io lavoro nella comunicazione Mi preoccupo che non arrivi il messaggio opposto Perché quando si toccano temi come la fede Cioè, chi non ce l'ha, non è mai abbastanza quello che sente Invece, chi ce l'ha, basta niente per confermarla Quindi è un problema grosso Io se parlo vorrei essere capito, non lo dico per ostentazione Qui sarai capito sicuramente Ecco, va bene, spero a casa, idem Comunque, la mia vita è cambiatissima Perché io ho avuto delle persone che mi hanno lasciato libero I miei genitori erano persone credenti Ma insomma, che mi hanno lasciato libero E io avevo fatto una sorta di tabula rasa Cioè, avevo così, arrivato sulla soglia dell'agnosticismo Cioè, diciamo, ero pure credendo di fare il bene Perché poi alla fine io non ho mai pensato di fare cose negative Però, diciamo, formalmente io mi definivo agnostico Diciamo così Quindi, la prima cosa che ho capito È che a 23 anni La prima cosa che ho capito è che Il dolore apre le porte La grande domanda è perché soffriamo? Perché siamo un po' gnocchi Perché se non fossimo gnocchi non soffriamo Cioè, gli avanzamenti li facciamo attraverso il dolore Io questo l'ho capito L'ho capito perché Dopo aver lasciato una fidanzata Non in maniera drammatica Ma per me era drammatica Perché non riuscivo a dare un fine E quindi io nei giorni successivi ero serenissimo Perché mi ero tolto questo peso Avevo lasciato questa fidanzata a 23 anni Speriamo non ci sento Racconto quest'episodio No, ma lei è una persona che tra l'altro Con cui conosco Cioè, siamo in ottimi rapporti Benissimo Per cui cade l'amore e io la lascio E quindi ero io che mi ero attaccato a lei E chiaramente l'amore era finito Allora, succede questo E sono un po' imbarazzato a dirlo Perché è un tasto molto intimo Allora, erano Io ero molto sereno Perché non avevo Io non ho mai bevuto Né preso alcolici Né preso caffè Non lo bevo neanche adesso il caffè Lo bevo quando devo guidare per lungo tempo Quindi non ho fatto mai uso di nessuna sostanza Anche farmaci, eccetera Le quattro di notte La faccio breve Ero nella mia stanza da letto Con i miei genitori Avevo 23 anni E di notte è successo questo Che io a un'altezza indefinita Potrebbero essere qualche metro Ma non era un'altezza fisica Mi sveglio E sono vigilissimo Molto vigile E avrei potuto risolvere un problema di matematica Non sono un matematico Ma avendo fatto lo scientifico Per me il segnale di essere allerta Era quello E fare conti precisi Essere presenti a se stessi Molto con i piedi per terra Privo di fronzoli mentali Non ero invaghito Oppure Non ero fulminato Non ero fulminato Neanche preda di chimere Di vario tipo Improvvisamente Mi sveglio E sono molto I miei piedi per terra Dico Cavoli Come sono sveglio Potrei alzarmi E andare in giro E Su di me All'altezza dell'ombelico Un'altezza di 5-6 metri Ma non è un'altezza fisica Non vedo con gli occhi Ma sento una sorgente Un punto Dalla quale Io Il termine più vicino Un phon Amore verso di me Ma Una Quantità D'amore Che mi ha annientato Perché Pensando all'amore della mamma Che è il massimo Che io ho sperimentato Questo era Questo punto Questa sorgente Mi amava E Il messaggio era Io sentivo Quest'amore fortissimo Verso di me E mentre mi amava Mi diceva Tu Ti puoi girare E mandarmi A quel paese Cioè Ignorarmi E sei Totalmente libero Di fare Quello che vuoi Più amava Questa Questo essere Che Definiamo per adesso Non diamo definizioni Questa sorgente Mi amava E mi trasmetteva E mi trasmetteva Un amore Inimmaginabile Io non sono mai Stato amato In questo modo Fino a quel momento E E il messaggio E il messaggio era Appunto Puoi girarti Dall'altra parte Perché è ininfluente Deve essere Ininfluente Sulle tue scelte Come hai capito Che era Dio Quando è che Gli hai dato Il nome Dio Ah beh Perché Io mi sentivo In automatico Non lo so Lo sapevo Che era Dio Perché io mi sentivo Io in ogni momento Dicevo Ma no Come faccio a dire no E mi sentivo E mi sentivo sempre più piccolo Perché un po' mi vergognavo Di essere così Fragile E questo amore Che mi ha inondato Mi ha detto Mi ha trasmesso Questo concetto Amare E dare Se dai Scusate Io sono un po' basita Ero pronta a sentire E' una roba grossa Allora No vabbè Non applaudite Non lo so se Non siamo Ecco Se dai Metti le mani Nella fiamma E non ti E non ti bruci O nelle lame E non ti tagli Allora Io Il giorno dopo Non ero Da quel momento Non ero più io Andavo alla messa Solo che percepivo Di più Quindi sentivo Tutti quelli Che non avevano la fede E non mi piaceva la cosa Perché io sentivo immediatamente Che andava lì per convenzione In famiglia si sono accorti di questo cambiamento Ovviamente Con mia mamma Sì Con mia mamma Parlavo Anche con mia sorella Io con i miei E ho un grandissimo rapporto E quindi È stato un rapporto Molto positivo E ho cercato il dialogo Frati o preti Io ho avuto una grande fortuna Di avere un prete Che vorrei nominare Don Dante Piracini Nelle medie Alle medie Che era un grandissimo prete Estremamente consapevole Anche del gioco Per cui lui ci faceva giocare E capivamo la fede Senza che ce l'andasse a indottrinare Ma lui era talmente Una persona solare Per esempio D'estate ci faceva costruire Un aeromodello O una nave Perché lui aveva capito Che divertirsi Giocare Era uno strumento Di conoscenza Di fede Eccetera Comunque io Da questo momento Ho iniziato una grandissima ricerca Una grandissima ricerca Che mi ha portato ovunque Perché io poi sono andato a esplorare Non solo il cristianesimo Sono andato a esplorare Anche le altre religioni Per tornare al cristianesimo Al cattolicesimo Io ho esplorato tantissime religioni Sono andato a esplorare Il buddismo Sono andato a esplorare L'induismo Tantissime religioni Perché il suo nido Rimane poi dopo il cattolicesimo Perché ha capito Che è quella della sua strada Allora Intanto Perché c'è Perché a livello mondiale Primo fatto Non fa niente nessuno Cioè Adesso Il Vaticano è oggetto di critiche Però se non si muove Il Vaticano Chi si muove Chi va Chi va A curare Se non si muove la chiesa Se non si muove la chiesa La chiesa Mi sono sbagliato termine Però chi va Dai poveri Chi va a fare gli ospedali Io conosco una comboniana Di Verona Che va In Sud Sudan E fa Un'opera Alla malaria Continua a lavorare Chi ci va I buddisti non ci vanno I buddisti È una regione bellissima Avanzatissima Perché hanno capito Che se dipingiamo Dio Loro dicono Dio non importa Non preoccupatevi Perché lo farete sempre Antropomorfo E quindi È una grande idea Però Al di là di questo Non ci sono istituzioni buddiste Che si occupano Dei poveri Sono rare La meditazione Ok È uno strumento di evoluzione Eccetera Era preghiera In altra Detta all'orientale Si chiama meditazione Questo Dio Che lei ha riconosciuto Non l'ha mai lasciata No Problemi grossissimi Perché io faccio l'attore Quindi ogni due per tre Mi offrono La volgarità Le cose Io non riesco Cioè il problema grave È che Uso un termine Un po' forte Non mi dica brutte parole Che non è da lei No 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 Una cosa semplice Una prostituta finge Di avere Quello che non prova Io no Perché non posso Nemmeno fingere Di essere comico Se non mi viene Cioè la finzione Di un attore comico È limitata Perché io sarò Un attoraccio Se io accetto Un copione Che non mi piace Faccio pena Non mi vengono le battute Non ho possibilità Di finzione La finzione Si spinge Persino nell'amore Può spingersi Nell'amore Nel sesso Eccetera E uno può Darla bere Nel mio caso No Sono messo peggio Perché non mi vengono Le battute Se mi danno Un copione brutto Brutto significa Volgare Perché tanto Ogni due per tre Va a casa di Natale Meno male Che fanno soldi Perché nel mio settore Però Io ne ho accettato Uno di Vanzina Purtroppo Però lei non è uno Che riniega Io li ho recitati tutti Dal primo All'ultimo Perché qui Carta canta Cioè tutti siamo Intelligenti Simpatici Però quando arrivano Un milione di euro Cash sul tavolo Dire no È questo il problema Dire no O dire sì Allora il milione Diventa in nero Diventa in rosso In banca Perché se tu non accetti Quel milione lì Loro soffendono Perché Cosa succede? Che un personaggio Importante Che ti dà un milione di euro E te lo dà Vent'anni fa Non te lo dà più Non solo Ma ti dichiara guerra Perché per lui È un'umiliazione Questo non l'avevo capito io Che chi Ti offre soldi Ed è importante E si offende Allora vuol dire Che il milione di euro Va sotto Tu vai in rosso Però Ferrini Lei è qui Ma non ce la fai Perché la sera Quando tu vai a letto Cosa fai? È un'umiliazione Perché purtroppo Quella voce No purtroppo Per fortuna Però purtroppo Per i soldi Quella voce lì Continua Io non riesco più A uscire Anche volendo Da questa strada Però per fortuna Esistono anche dei legami Che si fanno In questo ambiente Che comunque È un ambiente bello Lei con quelli Della notte È rimasto Allora Io Allora La prima elemento La porto prima A far vedere una cosa Ferrini È l'amicizia che ci unisce Perché è la quelli della notte È la cosa che la gente Ha capito È l'amicizia che ci unisce E guardi qua Amicizia che unisce E che continua Guardi qua dove l'abbiamo portato Dalla signora Maruisa Laurito Che è stata nostra ospite Guardate qui che spettacolo Sorpresina Si riesce A riconoscersi però Anche in questi ambienti Ferrini Senza rinunciare a se stessi Beh beh Io dopo Ci si riesce a stare benissimo Il dramma di iniziare Con quelli della notte Il resto è meno È un segno È tutto meno dopo Esatto Da lì si può soltanto Come fai? Crescere tra l'altro Una nuova avventura Insomma che la porterà Fino a maggio O con Con fazzo Sì sì Fino a giugno a questo punto Esatto Fino a giugno E questa è una cosa Veramente molto importante Sì 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 Ferrini quanto è duro Rimanere Ma in fondo Rimanere Rimanere onesti con se stessi Rimanere fedeli Anche a delle scelte In quest'ambiente C'è un prezzo da pagare Però poi va la pena Voglio dire Non è che mi lamento Io non mi lamento assolutamente Perché tanto Ho un privilegio Di fare un bellissimo lavoro E è duro tutto C'è un aneddoto Che Banfi racconta Che quando Lui era insieme A Garrone Garrone è quello Che fa San Pietro Che lo fa prima di Solenghi Adesso lo fa Solenghi Nello spot Nello spot Nello spot Di un caffè Eccetera Ci siamo capiti Garrone è quel signore napoletano Con i capelli lunghi Un attore grandissimo Banfi stava trattando Per fare un contratto nuovo Che coinvolgeva anche Garrone E non riusciva a mettersi d'accordo Sulla cifra Allora Garrone l'ha chiamato da parte E gli ha detto Lino accetta Perché l'alternativa È lavorare Questo fa capire Alla grande Napoletano Di vecchia saggezza Di antica saggezza Questo signore napoletano Abbiamo già detto tutto Ferrini Che cosa Che cosa ha capito Di tutto questo Torno un attimo Al suo incontro con Dio Perché mi piace parlarlo così Sì Che cosa le ha dato E a che cosa ha dovuto A cosa ha dovuto rinunciare L'ho detto con molta chiarezza Che cosa le ha dato Essere comunque fedele a se stesso E fedele a lui Ma Ma ha dato molto Adesso Io sono molto amico Di un grande studioso Di Pentateuco Che è pesarese E che si chiama Simone Venturini Il quale Mi disse una volta Ma secondo te Dio cos'è Io dissi amore No Dice dietro C'è qualcos'altro Dio cos'è Dio cos'è Luce A quanto pare Per i grandi studiosi La cosa prima di tutto È la luce E quindi La luce Contrea dell'ombra Dato che l'ombra Si Purtroppo Si attizza Quando uno Cammina nella luce L'ombra Si Tac Si sveglia Quindi a me è dato tantissimo Perché a voi vale sempre la pena Posto che comunque La vita è dura Per tutti Anche se uno fa l'attore Un lavoro Adesso al di là Della paradosso Di Garrone La vita è difficile Per chiunque Il nostro ambiente è difficile Ma secondo me invece Ecco una cosa che io penso Che quel nuovo secolo Sarà il secolo Dello spirito Quindi noi ci stiamo avvicinando A una grande rivoluzione Che è quella Dello spirito Non sarà la politica E quindi non ci si chiederà più Salteranno i partiti La destra e la sinistra Sono creati Della rivoluzione francese Perché quell'anfiteatro lì È l'antessignano del litigio Sa Ferrini Questo spiega il motivo per cui Un grande papa Che è papa Francesco Certo Ha indetto l'anno della misericordia Ferrini Lei è molto simpatico Lo sappiamo tutti Ma è una grande profondità di cuore Grazie di averci onorato Non è merito mio Eh ci ha onorato Della sua presenza Grazie Noi ce ne andiamo La salutiamo poi con calma Ce ne andiamo Rinvitatemi Assolutamente Ecco io vengo Lei l'importante è che venga Perché poi non ci sdobbi Ci mancherebbe altro Noi invece non sdobbiamo Delle cose bellissime Lei è una delle sorprese Di questa giornata Casa sollievo della sofferenza Ritorniamo alla nostra Antonella Ventre Perché il viaggio In un'Italia bella Perciò ci chiamiamo Bel tempo si spera Perciò ci chiamo